Buonasera a tutti i telespettatori di TR24 e Teleromagna, da Andrea Raggini. Anche oggi è stata una giornata di sole e caldo nella nostra regione, caldo che non ci abbandonerà nemmeno nella giornata di domani, che risulterà probabilmente la più calda della settimana con valori massimi localmente fino a 34-36 gradi. Il tempo risulterà soleggiato in mattinata, mentre nel pomeriggio inizierà a cambiare qualcosa. La nuvolosità aumenterà sulle miglia centro-occidentali, dove qualche rovesce temporale sull'Appennino non sarà totalmente da scludere. La situazione, come detto, cambierà soprattutto ad inizio settembre. Già da venerdì avremo molta nuvolosità, con rovesce temporali sparsi, temperatura in calo graduale, ma la giornata di domenica potrebbe risultare la più fresca, con valori massimi anche sotto i 24-25 gradi. Quindi andremo incontro alla prima vera rottura dell'estate. Per ora è tutto, buona serata da Andrea Raggini.